Per tutelare la loro salute, gli uomini dovrebbero mangiare alcuni alimenti precisi che risultano indicati a prevenire i principali tipi di malattie. Ecco quali sono. Secondo uno studio di Harvard, gli uomini che mangiano pomodori hanno un rischio minore di sviluppare il cancro alla prostata. Il motivo sta probabilmente nel licopene, di cui questi frutti sono ricchi. L'aglio aiuta a prevenire il cancro alla prostata e paradossalmente gli uomini che ne mangiano tanto hanno un odore che risulta più attraente per le donne, come ha dimostrato uno studio dell'Università di Praga. I broccoli sono un toccasana nella prevenzione del cancro alla vescica, molto più comune negli uomini che nelle donne. L'anguria, ricca di potassio, fa in modo che la pressione sanguigna si abbassi e grazie al licopene previene il cancro alla prostata. Le noci brasiliane sono molto ricche di selenio, importantissimo per mantenere una buona salute dello sperma. Il selenio, inoltre, incrementa la fertilità. I mirtilli hanno molta fibra solubile, ideale per contrastare il colesterolo in eccesso. Questi frutti, inoltre, hanno componenti che migliorano la circolazione sanguigna, permettendo agli uomini di avere migliori erezioni. Il fegato ha un elevato contenuto di vitamina A e consumare cibi che ne sono ricchi aiuta gli uomini ad avere una migliore vita sessuale e più spermatozoi. In questo alimento c'è anche molto zinco, essenziale da compensare poiché con una sola eiaculazione se ne espelle un terzo del fabbisogno giornaliero.